Basta proroga ai dirigenti a contratto. Lo chiedono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Roberta Ansuini, Ada Romiccioli e Marta Ruggeri. I grillini ritengono che il numero dei dirigenti a tempo determinato vada ridotto all'osso. Non lo pensiamo, solo noi dicono, ma lo prescrive anche la legge. Il testo unico degli enti locali, infatti, da giugno dello scorso anno, obbliga a limitare la quota di dirigenti a contratto sotto il 30% della dotazione organica. A Fano attualmente ci sono otto dirigenti, di cui quattro a tempo indeterminato e quattro a contratto. Questi ultimi sono Adriano Giangolini, responsabile dell'ufficio urbanistica e dei lavori pubblici, Gabriele Fossi, responsabile dei servizi territoriali e ambientali, Daniela Mantoni, ragioniere capo, finanza e patrimonio e Giorgio Fuligno, comandante della Polizia Municipale. Ma secondo la legge i dirigenti a tempo determinato in servizio dovrebbero essere al massimo due. Sono un po' un'anomalia, nel senso che dare a un dirigente che dovrebbe avere un'autonomia e una libertà, diciamo, di operazioni, un ruolo precario che quindi potrebbe essere soggetto a essere, diciamo, ostaggio della politica, non è sicuramente l'ideale. Questa situazione sarebbe stata ereditata dalla giunta precedente e il sindaco al cambio di mandato ha scelto di prorogare i contratti fino alla loro durata triennale. Questo secondo noi era già discutibile allora perché la legge, il testo unico degli antilocali, dice che i contratti a tempo determinato dirigenziali decadono con il sindaco, quindi secondo noi sarebbero decaduti. Nell'ultimo anno però sono stati ulteriormente prorogati alcuni di questi contratti che quindi sono già nel loro quarto anno, quindi qui è sicura l'irregolarità. Noi pensiamo che il numero di dirigenti vada in generale ridotto e sicuramente quello dei dirigenti a tempo determinato che appunto non possono garantire quell'autonomia dalla politica che invece è necessaria dentro la macchina comunale. Negli ultimi 15 mesi, prosegue Ansuini, il comune avrebbe avuto almeno due dirigenti che non poteva permettersi e gli incarichi sarebbero stati dati senza una selezione. Per avere risposte dal primo cittadino e per far chiarezza sulla vicenda, i grillini hanno presentato un'interrogazione ma non escludono di rivolgersi sia alla Corte dei Conti che alla Procura. C'è il rischio diciamo di problemi amministrativi gravi che potrebbero condurre a ipotesi di danni erariali o ipotesi di abuso d'ufficio.